Interviene il consigliere regionale di Sinistra Italiana Liberi e Uguali, Mino Borracino. Il governo impugna la legge regionale che disciplina le emissioni odorigine? Le imprese che producono cattivi odori, a discapito della qualità della vita dei pugliesi, staranno festeggiando. Noi di Sinistra Italiana Liberi e Uguali siamo stati forse i più critici nei confronti della legge numero 32 del 2018. Arrivamo anche ad un voto contrario di protesta perché ritenevamo che fosse peggiorativa rispetto al testo approvato in Consiglio nel 2015. Ma con questa mossa il governo fa un regalo a chi produce emissioni che spesso ammorbano la vita dei cittadini che risiedono nei pressi dei depuratori, sansifici, discariche e impianti che trattano rifiuti. La Puglia è stata la prima regione in Italia a legiferare su questo fenomeno a tutti i cittadini. Il governo del cambiamento continua a dimostrarsi dei fatti, un esecutivo dove gli interessi di pochi hanno la meglio sui benefici per la collettività. Stiamo dalla parte della regione Puglia a difesa della legge che il governo vuole cancellare. Del resto, prosegue Borracino, da quello che si può capire dal comunicato diramato dal Consiglio dei Ministri, i presupposti dell'impugnativa da parte del governo, a nostro giudizio, sono infondati. Forse al governo è sfuggito il comma 1 dell'articolo 272 bis introdotto a dicembre del 2017 nel testo unico sull'ambiente, legge 152 del 2006, che affida alle regioni la competenza in materia di disciplina sulle emissioni od origine, nell'ambito delle autorizzazioni AIA di propria competenza.